appena installato element la prima cosa da fare è andare a impostare il workspace per farlo andiamo su data in setting e su manage projects and workspaces si apre una finestra io qui ho già inserito alcuni progetti adesso però vedremo come fare la prima cosa quindi quella di andare a cambiare il workspace è consigliato andarlo a mettere sulla cartella principale del disco ovvero su c e poi in una sottocartella chiamata a vostro piacimento nel mio caso andy met projects non do l'ok vi faccio vedere direttamente da explorer dov'è e cosa contiene eccola qui contiene esattamente le cartelle nominate più o meno la stessa maniera di quelle che vediamo qui nel nel workspace manager ora che cos'è un workspace il workspace appunto è il luogo dove andare a inserire tutti i progetti e a questo punto vediamo che cos'è un progetto i progetti sono i vari contenitori che contengono di le varie versioni dei nostri calcoli per esempio in questo caso ho fatto un calcolo prima da ancona poi un altro ad ascoli e così via e ho creato diversi progetti per creare quindi un nuovo progetto che farò andrò qui in basso su create a new project questo nuovo progetto che rinominiamo per l'occasione progetto roma può essere appunto nominato in modo diverso dalla cartella che chiamerò semplicemente roma per farvi capire andrò ad applicare le mie modifiche e lui dicendomi guarda non esiste la cartella tra voglio creare sì mi ha creato nel diciamo in questa lista progetto roma come vedevamo anche qui e mi ha creato la cartella roma se andiamo a vedere il contenuto di questa cartella troviamo effettivamente che ci sono già due file questi due file sono riferiti essenzialmente al database locale in quanto e mi met farà riferimento a questo database locale dei materiali modificati da noi ma farà riferimento soprattutto ad un database collettivo diciamo così generico del programma a meno che non si metta la spunta qui però è meglio evitare in questo in questo caso in modo tale da avere entrambi database utilizzabili quando diciamo che questo progetto altro non è che un contenitore e per anche perché questo deve contenere effettivamente il file del modello che andremo a calcolare infatti nella fase successiva quando poi andremo a vedere spaces la prima cosa che dobbiamo fare è salvare il file all'interno della cartella del nostro progetto che andremo a vedere